Perco sulla Tecno è stata una vera e propria hit qui su TikTok, è stata in tendenza per più di due mesi, sono stati realizzati oltre 80.000 video per un totale di 570 milioni di visualizzazioni, ma andiamo a vedere quanto ho guadagnato. Partiamo dicendo che se avessi fatto lo stesso numero di riproduzioni su Spotify, al posto che su TikTok avrai guadagnato 0,0023 centesimi a riproduzione, che moltiplicato per 500 milioni, calcolatrice alla mano, mi farebbe risultare 1.150.000 euro circa. Purtroppo con TikTok i guadagni sono molto molto più bassi, in quanto la piattaforma è considerata più un carrier che un provider, e come tale i proventi non sono paragonabili a quelli dei veri e propri store. Difatti è in corso una vera e propria battaglia legale tra le case editrici americane e TikTok, che minacciano di togliere tutti i contenuti caricati sulla piattaforma stessa. Ma torniamo a noi, TikTok quindi è probabile paghi solamente i contenuti supportati da pubblicità, e ad oggi su Twerk o sulla Tecno, udite udite, ho guadagnato ben 1,92 centesimi.